i deltoidi sono il distretto muscolare che nel tempo mi ha dato probabilmente più soddisfazioni se riguardo le prime gare e riguardo le ultime sicuramente il miglioramento appunto sulle spalle è stato uno di quelli più importanti quindi oggi vi faccio vedere quali sono i miei esercizi preferiti per le spalle in modo particolare andremo a vedere quelli per la porzione anteriore laterale e posteriore e vedremo anche quelli che secondo me sono i peggiori per vari motivi che non inserisco mai all'interno delle mie routine. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dai parliamo di spalle e vi faccio vedere i miei esercizi preferiti partiamo dalla porzione anteriore se mi saprete che sono un grandissimo fan delle spinte in alto con manubri seduto su panca è un esercizio davvero che uso praticamente tutto l'anno lo inserisco sia con carichi medi e medio alti ma anche con carichi medi e leggeri inserendo anche le tecniche di intensità. Adesso ve lo faccio vedere come sempre partiamo con i manubri che mi raccomando devono partire dalla spalla quindi il manubrio deve essere a contatto con la spalla quindi la discesa una volta che scendiamo deve essere profonda e devo tornare nella stessa posizione da cui sono partito. Da qui spingo in modo esplosivo e torno verso il basso andando appunto a sfiorare nuovamente la spalla con il manubrio. Mi raccomando ragazzi non lavoriamo con i gomiti aperti ma i gomiti sono sempre leggermente più avanti delle spalle e da qui spingo dritto per dritto verso l'alto evitiamo anche di fare queste traiettorie boom dritto verso l'alto e poi torno indietro. Mi raccomando fate una discesa profonda il deltoide va allungato quindi quando scendiamo andiamo ad allungare il deltoide e poi andiamo a accorciarlo in fase di spinta quindi se come si vede molto spesso vado a fare una discesa parziale in questo modo sto togliendo la maggior parte dell'efficacia all'esercizio quindi mi raccomando ragazzi fate una discesa profonda spinte in alto con manubri sicuramente esercizio top da inserire nei tuoi programmi. Secondo esercizio di spinta con enfasi porzione anteriore del deltoide lento avanti al multi power è davvero un ottimo esercizio che amo particolarmente anche questo è praticamente sempre presente all'interno dei miei programmi e lo uso per un rep range medio medio alto quindi se faccio lavori pesanti sulle spinte poi sul multi power sul lento avanti al multi power andrò a fare lavori dalle 8 10 rap in su vado a inserire spesso tecniche di intensità e vado a lavorare anche con delle parziali che tra poco vi faccio vedere. È un esercizio secondo me molto interessante perché è più semplice siamo seduti abbiamo la schiena appoggiata il bilanciere è guidato quindi non dobbiamo pensare troppo alla stabilizzazione del carico e dobbiamo pensare solamente a spingere quindi posiziono bene la panca il bilanciere deve passarmi molto vicino al mio naso quindi non dobbiamo essere lontani dalla panca ma in fase di lavoro ho la testa appoggiata e il bilanciere passa molto vicino al mio naso mi raccomando ragazzi perché è interessante multi power sfruttiamo bene la fase eccentrica e facciamo un rom profondo possiamo scendere di più rispetto ai manubri perché non abbiamo il manubrio che ci appoggia sulle spalle quindi possiamo guadagnare qualche centimetro in basso e portare in massimo allungamento il deltoide e da qui spingo l'importante ragazzi è che il gomito sia sempre allineato con i polsi quindi non spostiamo i gomiti indietro quindi gomito sempre sotto il polso e da lì vado come vi dicevo un lavoro interessante che inserisco spesso sono delle parziali quindi cosa faccio lavoro solo nella parte in allungamento quindi salgo fino a metà scendo faccio allungare bene il deltoide e poi riparto possiamo inserire delle parziali alla fine delle rep complete quindi faccio le mie rep complete vado a cedimento poi parto subito con le parziali oppure inserire dopo magari delle spinte in alto pesanti una due serie più leggere qui al multipavro in cui faccio solamente delle parziali appunto nel punto di massimo allungamento passiamo al terzo esercizio che va a stimolare maggiormente la porzione anteriore del deltoide che è la military press è un esercizio che secondo me è molto interessante all'inizio della nostra carriera in palestra quando dobbiamo sviluppare buoni livelli di forza quando dobbiamo imparare a muoverci bene sotto carico e riuscire a gestire al meglio i nostri movimenti e il nostro corpo e a cercare di sviluppare una buona proprio sezione se siamo neofiti e ci alleniamo esclusivamente con i macchinari e con i cavi a mio avviso andiamo a perderci tutta quella componente che è il miglioramento della proprio sezione sotto carichi liberi che si muovono e che noi dobbiamo cercare di governare in qualche modo sicuramente quindi la military è un ottimo esercizio nei primi anni come movimento è praticamente identico alle spinte quindi devo partire con il bilanciere a contatto con il petto l'addome deve essere duro devo avere una grossa compattezza a livello di core come vedete i gomiti sono sotto i miei polsi quindi non devono andare indietro il petto è leggermente proiettato verso l'alto e da qui spingo una volta che ho spinto vado a infilarmi dentro con con la testa al bilanciere quindi non spingo in questo modo in avanti ma vado e spingo verso l'alto con le braccia che vanno a essere completamente tese alla fine della spinta e torno al petto in modo controllato a differenza delle spinte con i manubri abbiamo uno svantaggio che non lo rende un esercizio ottimale al 100% del fatto che stiamo lavorando in piedi e dobbiamo concentrarci tantissimo sulla parte dell'addome sul core per cercare di essere belli stabili e di non sbilanciarci in fase di spinta non inarcare eccessivamente la schiena quindi a mio avviso ha un piccolo svantaggio che secondo me è un ottimo compromesso appunto all'inizio della nostra carriera ma poi quando diventiamo molto più esperti riusciamo a gestire alti carichi diventa un po impegnativo gestire un alto carico e allo stesso tempo gestire la parte del core quindi tendenzialmente quando si è sviluppato buoni livelli di forza è un esercizio che non inserisco troppo spesso nei miei programmi e cerco di optare maggiormente per le spinte in alto e per il lento multipower che abbiamo visto prima di proseguire ragazzi vi ricordo che se volete allenarvi con un programma ben strutturato su una logica precisa già testato ampiamente negli anni su varie persone con vari livelli di esperienza potete entrare in via atlet program il nostro percorso di allenamento su web app è un programma che si basa sui tuoi livelli di forza potrai eliminare aggiungere sostituire gli esercizi per rendere tutto più personalizzato e in più hai l'accesso al gruppo chiuso facebook in cui noi ti diamo completa assistenza a 360 gradi su tutto il tuo percorso quindi ti allenerai in autonomia con il nostro programma ma riceverai sempre la nostra assistenza abbiamo un programma sia per uomo che per donna sia per la palestra che per l'on gym per entrare e iniziare ad allenarti oggi stesso trovi il link qui in alto in descrizione passiamo ora ad analizzare i migliori esercizi per la porzione laterale se vogliamo dirlo può essere considerata quella laterale la porzione più importante perché è quella che dà più larghezza più voluminosità al deltoide quindi sicuramente la maggior parte delle serie delle spalle all'interno della nostra routine settimanale dedicatela agli esercizi per questa porzione quindi a tutti gli esercizi di alzata laterale le alzate laterali possiamo farle sia da in piedi che da seduti non cambia nulla a livello di movimento da seduti probabilmente metteremo in atto un po meno compensi mentre in piedi c'è più il rischio di appunto sbilanciarci verso il dietro per cercare di agevolare la salita da seduti è un pelo più complesso farlo e quindi tendenzialmente si lavora un po più puliti però assolutamente ragazzi non cambia niente io stesso le alterno tranquillamente all'interno dei miei programmi e spesso sono presente entrambe le versioni magari un giorno da in piedi e un giorno da seduto ripasso veloce della tecnica sono qui da questa posizione spingo il manubrio verso fuori è importantissimo ragazzi prima di partire abbassare le spalle ok non dobbiamo pensare a spingere i manubri verso l'alto quindi non questo ma abbasso la spalla e da lì spingo verso il fuori con la spalla che rimane bassa il gomito è leggermente piegato non è teso non è troppo piegato evitiamo anche di fare queste cose qua ok se siamo portati a fare questa cosa probabilmente perché stiamo usando un carico troppo pesante quindi abbassiamolo giù le spalle e da lì spingo verso il fuori la traiettoria ragazzi è leggermente avanzata ricordiamoci che le scapole devono rimanere neutre non si devono chiudere quindi non devo chiudere le mie scapole ma non devo fare neanche un'alzata frontale quindi traiettoria leggermente più avanzata quindi il polso è leggermente più avanti della spalla quindi non in questo modo ma in questo modo e da lì spalla bassa spingo verso il fuori ottimo esercizio davvero io ho le migliori sensazioni ce l'ho su questo esercizio di alzata laterale però ha un piccolo svantaggio che è quello di avere bassa tensione nella prima parte del movimento quando il muscolo è allungato quindi sappiamo bene che avere una tensione quando il muscolo è allungato è molto importante quando siamo in basso la tensione è nulla quindi il muscolo è allungato ma la tensione è nulla e poi inizia gradualmente la tensione a mano a mano che io salgo e diventa massima appunto quando io ho il braccio parallelo al terreno quindi nella prima parte del movimento quando il muscolo è allungato la tensione non è ottimale in questa zona qua quindi adesso andremo a vedere delle varianti invece che andranno a spostare l'enfasi quando il deltoide è maggiormente allungato questa è una prima variante mi metto steso su panca mi metto in posizione stabile e da qui parto con la mia alzata laterale ragazzi sempre uguale le spalle vanno mantenute basse mi raccomando devo sempre spingere verso il fuori non spingere verso l'alto però qui avrò una ottima tensione nella prima parte del movimento quando il deltoide è allungato quindi da qui vado qui ragazzi non c'è più tensione quindi mi raccomando non salite troppo qua non serve a nulla ma dovete fermarvi più o meno in questa posizione da qui scendo allungo bene il mio deltoide spalla bassa e spingo in questo modo una seconda variante è su panca 30 non cambia nulla ragazzi tutti identico ma la panca è leggermente meno inclinata quindi anche qui ci posizioniamo bene e da lì spingiamo verso il fuori con la spalla che rimane sempre bassa ultima variante vado a mettere la panca a 45 gradi questa volta rimango in piedi cerco di inclinarmi al massimo in questo modo quindi sono in piedi non sono più steso quindi probabilmente la posizione è più comoda e da qui con il manubrio a contatto con la panca spingo verso il fuori quindi anche qui ragazzi avremo massima tensione nella prima parte del movimento quando il deltoide è allungato da qui vado e spingo verso fuori un altro ottimo esercizio per enfatizzare la tensione nella prima parte del movimento quando il deltoide è allungato sono delle alzate laterali con il cavo altezza media quindi vedete che il cavo è nella stessa traiettoria di lavoro dell'apertura ok cosa faccio prendo la mia maniglia mi allontano porto in allungamento il deltoide e da lì tutto uguale ragazzi spalla bassa spingo verso fuori e porto l'omero parallelo al terreno vado allungo e da lì riparto in questo modo sto usando una maniglia se volete potete anche usare una cavigliera quindi staccate la maniglia non avete più nulla in mano quindi mettete la vostra cavigliera la agganciate e da lì lavorate con la cavigliera in questo modo andremo a togliere totalmente la tensione dalla mano ci potremo concentrare esclusivamente sull'esercizio appunto di alzata laterale ok ragazzi passiamo adesso alla porzione posteriore la porzione posteriore anche questa è molto importante perché ci permette di avere più volume sulla parte della schiena con dalla visione di back avremo appunto il volume del deltoide posteriore e in più comunque concorre sempre insieme alla porzione laterale a dare volume alla spalla rotondità alla spalla c'è anche da dire che il deltoide posteriore lavora sempre in tutti gli esercizi di tirata per la schiena pulle i rematori eccetera quindi non è importante dargli tantissimo volume perché riceve già un ottimo volume in diretto però sicuramente è molto importante inserire esercizi che vanno a colpire in modo isolato appunto la porzione del deltoide il mio preferito è un'apertura al cavo che possiamo farlo essenzialmente in tre modi anche in base all'attrezzatura che abbiamo se abbiamo a disposizione solo cavi bassi e cavi alti quindi non abbiamo modo di muovere il nostro supporto a metà altezza la soluzione migliore è quella di fare un'apertura posteriore al cavo basso quindi ci mettiamo a 90 gradi anche qui ci allontaniamo quindi il deltoide la parte posteriore è già completamente allungata devo sentire che mi si allunga che mi si streccia da qui spingo verso fuori e porto l'omero parallelo al terreno non devo ragazzi far chiudere le scapole o meglio devono muoversi in modo naturale ma devo cercare di tenerle più possibile bloccate ok da qui spingo verso fuori faccio allungare bene allungo 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 e spingo verso il fuori tutto molto controllato se come detto poco fa non abbiamo modo di muovere il nostro supporto a metà altezza possiamo anche farle al cavo alto in questo modo però dobbiamo andare a inclinarci col tronco in modo tale da mantenere la linea di lavoro corretta da qui quindi tronco inclinato vado a fare un'apertura in questo modo i gomiti mediamente sono sempre allineati con la spalla anche qui allungo bene e vado a chiudere se invece avete modo di portare il supporto ad un'altezza media quindi più o meno all'altezza della mia spalla cosa faccio prendo il gancio mi allontano anche qui sento la porzione posteriore che si allunga bene bello stabile con le gambe e da qui vado aprire in questo modo vado allungo allungo e vado ad aprire tutto molto controllato ragazzi è importante questa parte finale vado 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 allungo in modo controllato riparto in questo modo porzione posteriore aperture posteriori con manubri possiamo farlo in tre modi da seduti con il petto vicino alle ginocchia e da lì spingo verso il fuori oppure possiamo farle in piedi piegate a 90 gradi o con petto su panca inclinata non cambia assolutamente nulla potete scegliere la versione con cui vi trovate meglio come le alzate laterali però ragazzi anche qui nel punto di massimo allungamento della porzione posteriore del deltoide non avremo tensione all'inizio e poi comunque nella prima parte sarà minima e aumenterà all'avanzare della traiettoria del range in movimento e sarà massima qui in alto quindi quando il muscolo è allungato non avremo tensione o comunque ne avremo poca e quindi in realtà un po come le alzate laterali ha questo piccolo svantaggio però secondo me rimane un ottimo esercizio che io inserisco molto spesso con cui mi trovo davvero bene ho un buon pumping quando finisco di farle a una buonissima sensazione sulla porzione posteriore quindi è un esercizio che secondo me se vi piace e vi trovate bene va mantenuto all'interno dei programmi ok ragazzi ora arriva il bello abbiamo parlato dei miei migliori adesso parliamo dei peggiori che non inserisco mai all'interno dei miei programmi il primo le alzate frontali con manubri e cavi eccetera tutte le varianti di alzate frontali ragazzi la porzione anteriore del deltoide riceve già tantissimo lavoro in tutti gli esercizi di spinta per il petto inoltre riceve tanto lavoro come abbiamo visto a inizio video in tutti gli esercizi di spinta verso l'alto spinte militari shoulder press e lento avanti eccetera quindi a mio avviso non ha alcun senso sprecare serie tra virgolette con varianti di alzate frontali perché appunto la porzione anteriore prende già tantissimo lavoro da altri esercizi migliori secondo esercizio lento dietro al multipower o con bilanciere ragazzi non ha alcun senso è sicuramente molto impegnativo a livello di mobilità andremo a creare delle forzature a livello articolare ci pensate bene voi durante la vita quotidiana non fate nessun movimento di questo tipo cioè quando prendete una cosa la alzate verso l'alto in questo modo e non qua lo sentite che qui c'è qualcosa che non va ok in fase di discesa se proprio un blocco quindi non ha alcun senso sentite maggior lavoro sulla porzione posteriore non è che il deltoide posteriore sta lavorando ma è in perenne corciamento e quindi sentite un po di lavoro lì ma non vuol dire che date uno stimolo alla porzione posteriore del deltoide ma sicuramente state facendo una cosa che è una forzatura a livello dell'articolazione della spalla quindi in alcun modo non inseritelo mai terzo esercizio aperture posteriori ai cavi in contemporanea è un ottimo esercizio per stimolare la porzione posteriore del deltoide perché è praticamente identico alle varianti singole che abbiamo visto ma non mi piace perché appunto devo lavorare con i due ganci in mano e un gancio deve passare sopra un gancio deve passare sotto e io sento percepisco questa sensazione di asimmetria con cui non mi trovo bene e quindi lo escludo sempre dalle mie routine perché abbiamo visto che possiamo tranquillamente lavorare singolarmente al cavo o con i manubri quarto esercizio peggiore shoulder press però ragazzi attenzione non tutte le shoulder press ci sono le shoulder press che sono davvero ottime hanno una linea di spinta corretta quindi la mia maniglia è posizionata in modo corretto come quando lavoro col manubrio ma esperienza personale poi magari voi avete trovato delle shoulder press ottime quelle che si trovano nella maggior parte delle palestre hanno una traiettoria che non mi piace spesso la maniglia è troppo indietro oppure abbiamo le maniglie verticali in questo modo che sono troppo avanti quindi la spinta non è mai una spinta efficace come quella che faccio con i manubri e come quella che faccio al multi power in cui il bilanciere mi passa attaccato al naso e le mani sono in una posizione corretta quindi nella maggior parte dei casi se non avete una shoulder press ben fatta con una traiettoria che va a simulare in modo perfetto una traiettoria dei manubri evitate di farla perché soprattutto se la maniglia troppo indietro andremo a lavorare con una forzatura anche a livello dell'articolazione della spalla e sicuramente non è il massimo per concludere invece facciamo una classifica devo scegliere un top per ogni porzione per la porzione anteriore è stata un'ardua scelta tra spinte e lento avanti alla multi power però dai opto per le spinte in alto con i manubri perché sono davvero il mio esercizio preferito di spinta verticale per la porzione laterale alzate laterali manubri rimangono davvero il mio preferito abbiamo visto che hanno un piccolo contro che non c'è tensione nella prima parte del movimento però a livello di sensazione è quella che mi provoca appunto sensazioni migliori ed è la variante di alzata laterale con cui davvero mi trovo meglio sarà che le faccio da tantissimi anni ma è sempre una soddisfazione farle per il deltoide posteriore anche qui è stata un po' ardua tra il cavo basso e il cavo medio sono davvero ragazzi molto simili praticamente uguali se devo scegliere però preferisco un'alzata al cavo basso perché riesco essere più stabile rispetto in piedi che devo comunque controllare anche il core quando sono invece a 90 gradi riesco a stare più stabile concentrarmi meglio sull'apertura posteriore quindi ragazzi mi raccomando mettete tutto in pratica prendete spunto da questi esercizi li ho testati provati nel tempo e sono quelli che inserisco praticamente sempre all'interno delle mie routine e in quelle dei miei atleti dai buon allenamento spalle noi ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie